Queste anteprime le trovate solo da noi Tiratela un po' di meno E basta, muti Ciao a tutti giocatori e semplici curiosi Noi siamo i giullari come ogni lunedì No, no, come ogni venerdì Siamo qui per raccontarvi ciò Che abbiamo giocato la settimana per la trascorsa Ehi, sonno Se tu non dicevi noi ma come lo accorgevo Come ogni venerdì siamo qui per raccontarvi ciò che abbiamo giocato nella settimana per noi Appena trascorsa questa settimana Vi parliamo di un sacco di anteprime Ma non prima di ricordarvi che domani e domenica ci troverete al festival In Val Policella, Dolce, provincia di Verona Saremo lì per giocare assieme Ci faranno fare e raccontare cose anche su un palco Quindi insomma venite anche voi Vi aspettiamo Tra l'altro le previsioni danno bello Quindi insomma Insomma dai venite che ci divertiamo Si gioca assieme Potete anche farci domande Insomma assistere un po' a una Q&A assieme a noi Insomma vi aspettiamo Ho detto insomma 40 volte L'avete notato? Insomma L'avete notato? Insomma Partiamo parlandovi di Yatai Gioco che vi abbiamo portato questa settimana In super anteprima sul nostro canale Gioco che potete preordinare sul sito dell'editore Che trovate linkato qua sotto in descrizione Che se lo preordinate ancora adesso Entrano maggio Lo potete avere super scontato Quindi approfittatene In Yatai noi indosseremo il grembiule In quanto ho scoperto che cosa sono le Yatai Sono queste bancarelle di strada Quindi questo street food giapponese E noi siamo appunto i proprietari Lavoriamo i camerieri In questo street food giapponese E dobbiamo fare bene attenzione Ad accontentare tutti i clienti Cercare di non fare troppa coda Quindi che la gente poi si scocci e se ne vada E quindi se riusciamo a dargli anche il piatto preferito Quindi noi dobbiamo stare all'occhio A cercare di accontentare veramente tutti quanti Sai ho deciso di aprire un ristorante sushi Che cosa ne sai tu di sushi? Che se ne frega del sushi Voglio solo gridare ai clienti quando entrano dentro Il gioco ha un funzionamento molto semplice La partita è anche molto veloce Per quanto ci siano un sacco di cose da tenere sott'occhio E un sacco di cose da cercare di incastrare Nel modo giusto al momento giusto E fare questi incastri perfetti Non è semplice Ma quando riuscite a farlo Vi dà una gran bella soddisfazione Perché la meccanica centrale è basata su una selezione azioni particolare Noi avremo questa griglia di tessera azione Dove andremo ad inserire una delle azioni In quel momento fuori dalla griglia Per poi attivare le azioni che rimarranno nella riga O nella colonna in cui abbiamo inserito la nostra tessera Con le azioni prenderemo nuovi clienti Cucineremo piatti Metteremo birre e bibite al fresco E dovremo cercare di migliorare anche lo Yatai Nel corso della nostra partita Perché lo spazio che avremo sia per cucinare che per tenere le bibite sarà poco Dovremmo riciclare anche le bibite che man mano i clienti berranno Perché altrimenti se abbiamo troppa immondizia dietro il banchetto non va bene Allora dobbiamo liberarcene E tutto questo andrà incastrato in modo certosino Perché come dicevo lo spazio è davvero poco E rimanere incastrati è davvero un attimo Come saresti se fossi legato a un secondo oggetto Su un piano inclinato Elicoidalmente avvitato intorno a un asse? Incastrato! A questa base molto lineare Molto semplice di dover prendere i piatti Prendere il cibo Prendere le bevande Soddisfare i clienti Dobbiamo anche unire però Tutta una seconda parte di upgrade Di miglioramento Della nostra plancia Perché ogni cliente che sarà soddisfatto E andrà via dal nostro locale Andrà piazzato su una griglia E su questa griglia Noi potremo ottenere dei bonus O degli avanzamenti sulle recensioni Che saranno punti Alla fine della partita Oppure migliorie del nostro yatai Quindi avere più spazio in frigo Avere più fornelli con cui cucinare O imparare nuove ricette Quindi poter soddisfare via via Sempre più clienti Il gioco mi è piaciuto molto Perché non c'è nulla di superfluo Tutto quello che dobbiamo fare È perfettamente collegato Non ho notato nulla Che se non ci fosse il gioco sarebbe uguale E quindi questo sicuramente me lo ha fatto piacere In più io non posso non dirvi dei materiali I materiali sono sagomati Sono colorati Sono molto molto carini E io sono rimasta affascinata dal regolamento Vi prenderete per matta Ma noi siamo abituati a leggere un regolamento Come un libro Quindi sfogliarlo per così Invece no Questo regolamento Lo si Per così Cioè Lo si guarda per così Molto in stile giapponese Anche questo aspetto Ho anche le plance del giocatore Le grafiche delle plance Esatto come due pagine di un manga Come avete giustamente corretto Sotto il video del gameplay Che è uscito lunedì Nel caso andatelo a recuperare C'è molta attenzione Anche dal punto di vista grafico È secondo me molto curato È molto piacevole alla vista L'abbiamo provato sia in due giocatori Che in tre Che in quattro E dobbiamo mettere che scala molto bene In base al numero di giocatori Ci sarà un setup leggermente diverso Per ridurre il quantitativo di risorse Che abbiamo Cibo e bibite Nel corso della partita Ma funziona bene Non si dilunga neanche In quattro giocatori Perché la partita Comunque con questo sistema di azioni È veramente come dicevo prima Molto snella Molto veloce In più giocatori puoi anche fare Qualche cattiveria in più agli altri La puoi fare anche in due giocatori Ma diciamo che in due giocatori Ne abbiamo sentita un po' meno la necessità C'è la possibilità anche di dare I nostri clienti e gli altri giocatori Per andare a A rallentarli un po' di più Insomma a mettergli più gente in coda Ma allo stesso tempo Stai anche rischiando di Dargli fondamentalmente dei punti Poi aggiuntivi Quindi bisogna gestirsela molto bene In più giocatori è un po' più facile Gestire questo aspetto Probabilmente Cioè che capiti Che uno abbia voglia di andare a infastidire Quello che sembra essere messo meglio In quel momento della partita A noi è piaciuto L'abbiamo proprio trovato piacevole Un buon peso medio Magari non inventa niente di nuovo Ma quello che fa lo fa bene Il gioco è ben curato È un buon prodotto Vi lasciamo qua sotto in descrizione Il link Per andare a scoprirne di più Altra anteprima di cui vi parliamo È Biomos Titolo che sta per arrivare Localizzato in italiano Da Get On Games Di cui noi abbiamo potuto Parlarne e scoprire il gioco In super anteprima Anche di questo Già trovate Il nostro gameplay Uscito mercoledì Ed è un gioco Che a me ha stupito molto Mi è piaciuta tantissimo L'attenzione Che c'è All'ambientazione Di questo gioco E come l'ambientazione Il messaggio Che il gioco vuole portare Che è un messaggio Di sostenibilità Dell'ambiente Si ritrovi poi Molto anche All'interno Delle meccaniche del gioco Questa attenzione All'aspetto naturalistico Di biodiversità Del gioco È dato Non solo Dal fatto che Tutto il gioco È fatto con Materiali riciclati E riciclabili Ed è un gioco Completamente ecosostenibile Ma proprio il fatto Che l'autore del gioco Si sia preso Un paio di pagine Del regolamento Proprio per parlarti Dell'importanza Che ha secondo lui Il prendersi cura Del nostro pianeta Permettere al pianeta Di vivere Di prosperare In modo sano In modo naturale Tant'è che nel gioco Noi siamo questi pianeti Che devono cercare Di far nascere la vita Di sviluppare Comunque dei biomi Adatti A far crescere la vita Sul proprio Sulla propria superficie Io sono brutto In termini di gioco Noi dovremmo risolvere Vari puzzle Ci saranno queste carte bioma Queste carte obiettivo Che diranno Che noi dovremmo avere Attorno al nostro pianeta Dei terreni Messi in una Determinata posizione E la particolarità È che questi terreni Usciranno da un sacchetto I giocatori Li sceglieranno a giro E noi non potremmo mai Sollevare Le tesserine Che abbiamo già piazzato Ma potremmo al massimo Farle scorrere In orbita Attorno al nostro pianeta Proprio in questo corridoio Che c'è In questa plancia scanalata Su cui ci troviamo a giocare Biomos ha due modalità di gioco Una Diciamo un po' più semplice Che è molto semplice Soprattutto per giocatori Che comunque Sono abituati a giocare Ma è molto utile Se non si vuole giocare Con dei bambini Infatti Anche come diceva prima Albi è molto Anche portato il messaggio Che manda questo gioco Quindi è anche bello Poterlo presentare E giocare con i bambini La seconda È una modalità Più sfidante Quella che abbiamo preferito Anche di io ed Albi Perché appunto Aggiunge anche Dei poteri Che si possono utilizzare Durante il gioco Poteri che vanno Comunque usati Con un certo Senso Al momento giusto Non è che li puoi buttare Lì a caso Ma vanno anche ben studiati In entrambe le modalità Comunque il gioco È velocissimo La partita è davvero Super veloce Bisognerà cercare Di gestire al meglio Quello che ci arriverà Tant'è che appunto Ho preferito anch'io Questa modalità avanzata Proprio perché Ti permette di Manipolare un po' I poteri Tipologie di terreno Che escono E quindi Ti permette anche Di arginare un po' La fortuna Che magari invece Nella modalità base Può anche avere Un pochino più di peso Un po' più di impatto Ma che ha senso Visto il target A cui si vuole rivolgere Ho apprezzato tantissimo Il fatto poi che I poteri Della modalità avanzata Siano tutti quanti Logici E sempre come dicevo prima Le meccaniche di gioco Sono aderenti All'ambientazione Che ti vuole raccontare E mi è piaciuto Veramente un sacco Perché per esempio Il potere Di poter trasformare Il segnalino blu In un segnalino ghiaccio Solo se adiacente A un segnalino marrone Il gioco te lo spiega E ti fa capire Il perché di questa regola Perché l'acqua In montagna Quindi il tassellino blu L'oceano L'acqua Se si trova vicino A una montagna Quindi ad alta quota Si ghiaccerà La potrai trasformare In ghiaccio In quel modo O potrai ancora Trasformare il ghiaccio In qualcos'altro Oppure sfruttarlo Per cercare di Incastrare nel modo migliore Gli obiettivi Che ci sono In quel momento Sul tavolo Il gioco di per sé Non inventa nulla di nuovo Non è un gioco innovativo A livello di meccaniche O dinamiche Però Quello che deve fare Lo fa bene E in più È un gioco Che può essere giocato Da chiunque In 10-15 minuti Lo potete proporre Veramente a tutti È un gioco Super spendibile E poi anche Essendo bello Da vedere Molto colorato Ha dei bei materiali Secondo me Quello è un plus Davvero Che può piacere Anche solo Far scorrere I tassellini È un gioco nel gioco Che comunque Vedrete Che Gli acchiappate È un gioco Che comunque Funziona bene Può essere un ottimo Apre pista Anche un inizio di serata Ultimante Prima di questa settimana Vi parliamo di Barrio Che abbiamo avuto occasione Di giocare Questo è già disponibile Anche trovate il link Qua sotto In descrizione Novità di Little Rocket Che aspettavo un sacco Perché da come ne avevo letto Da come mi ero informato Mi interrogava un casino La potenziale Tantissima interazione Che c'è tra i giocatori Nel costruire Queste carte edificio Che avremo in mano Cercando di creare I nostri panorama I nostri edifici Del nostro barrio Con la particolarità Che le risorse Che dobbiamo utilizzare Sono in un mercato comune E quindi io posso andare A rubare carte Che hai giocato te In questo mercato Idealmente per poi Usarle te Per i tuoi edifici O romperti le scatole Mettendoti in mezzo Risorse che non ti servono A niente Ma che sarai costretto A prendere E trasformare In punti negativi Nel corso della partita Se capisco A cosa tu stai puntando Schizzo male L'aspetto veramente figo È che giocare Le carte nel mercato Da un lato Si permette Agli altri giocatori Che giocheranno Prima che tocchi Di nuovo te Di usare Quelle risorse Per potersi giocare Le loro case Che sarà ciò Che ci darà Dei punti Ma allo stesso tempo È anche il sistema Che noi abbiamo Per poter pescare Più rapidamente Altre carte Che magari Mi servono di più Per completare I miei edifici E questo sistema Di gioco L'ho trovato Davvero Intrigantissimo Mi è proprio Ce l'ho trovato Particolare Un po' diverso Dal solito E secondo me Funziona davvero Molto bene Funziona anche tantissimo A farti incavolare Perché Questo sistema Di mercato Comune Accidenti a lui È dannoso Alcune volte Perché tu ti prepari Tutto il tuo bel mercato Tutto la tua bella riga Dici ma magari Questa la metto qua Così ingolosisco l'altro Poi proprio Prima che tocchi a te Ti tolgono via tutto E tu rimani a bocca asciutta E devi ricominciare O avere la speranza Che gli altri giocatori Ti mettano qualcosa Che ti possa essere utile Ma c'è un po' di rabbia Ma quale rabbia Che cazzo di rabbia Mi dici Un'altra cosa Che mi è piaciuto E che secondo me Riesce a variare Anche la partita Da una volta all'altra Sono le carte Di punteggio Di fine partita Perché con una sola carta Tu puoi giocare In modo diverso Perché in una partita Magari Determinate carte Ti tolgono punti Quindi cercherai Di non prenderle Di buttarle giù Nella speranza Che lo prendono gli altri In un'altra partita Quelle stesse carte Ti daranno punti E quindi giocherai In maniera completamente Differente E questo Cambia veramente tanto Il modo di giocare Una partita Il cercare di prendere O non prendere detriti O farli prendere agli altri Ovvero le carte extra Che ci sono Nella rigo colonna Assieme a quelle Che effettivamente Mi servono per completare La mia La mia carta A casa Che ho nella mia mano Fanno davvero Tanto la differenza Proprio dal mood Di una partita all'altra Come diceva Vale Che è proprio grazie A un'unica carta Una carta a caso Ma ci sarà la partita Dove la carta stropicciata La vorrai avere Quella dove cercherai Sempre di scartarla In modo da rompere Le scatole agli altri Perché davvero Cambia proprio un sacco L'approccio Alla singola partita E anche questo È un aspetto In più Super interessante È fondamentalmente Un mazzetto di carte E dici Vabbè C'ho da spendere le risorse Per costruire le case L'ho già visto mille volte Eppure Barrio Riesce a farti Questa roba Che fanno mille giochi In modo fresco Originale Diverso dal solito Ci è piaciuto un sacco Il fatto che poi Devi cercare Di fare il panorama Per fare più punti Che puoi farti La costruzione bonus Con i simboli diversi Ok Quello è un di più Che è bello Ma anche non ci fosse Il gioco sarebbe Fichissimo lo stesso È veramente Veramente originale Mi ha proprio Stuzzicato E soddisfatto E finisce così La nostra settimana Ricca di novità Ma prima di salutarvi Vi ricordo Che come sempre L'edì è uscito Il nostro gameplay Ed è uscito Il nostro gameplay Di Yatai Mi raccomando Non guardatelo Se avete fame O se avete Un leggero languorino Perché potrebbe Veramente Farvi venire Una gran fame Invece mercoledì È uscito Il nostro gameplay Proprio di Biomos Di cui vi abbiamo parlato Anche prima Lo potete preordinare Andatelo fare Al link qua sotto In descrizione Perché secondo me Non ve ne pentirete Sia che cerchiate Un'esperienza Più semplice Adatta a tutti quanti O anche una sfida Più intrigante Nella sua modalità avanzata Noi vi rinnoviamo Ancora l'appuntamento Per domani E domenica Al festival Su Adolce In provincia di Verona Noi vi diamo appuntamento Ai nostri prossimi video Vi ricordiamo Che qui a Casa Giullari Si gioca per giocare I Giullari vi salutano E che il gioco sia con voi Ciao 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 Ciao